Un particolare ringraziamento va al Presidente dell'Istituto Nazionale Revisori Legali, Virgilio Baresi, per averci permesso di partecipare come parte attiva al primo congresso italo-europeo. Con voi oggi vorrei sottolineare la preoccupante situazione della disoccupazione che sempre più in Italia sta colpendo il mondo giovanile. In seguito ad una ricerca conclusasi mercoledì 30 novembre 2011 dall'Istat, si è rilevato che il numero di disoccupati nella nostra nazione nel mese d'ottobre è pari a 2.134.000 persone, tra cui 1.900.000 circa sono soggetti compresi tra i 20 e i 30 anni. In questo periodo la ricerca di un lavoro stabile in Italia, provati anche dalla crisi economica che affonda le sue radici fra le varie nazioni del mondo, risulta un'impresa realmente difficoltosa, spesso e volentieri demotivante e inefficace. In tutto questo buio occupazionale vi è uno spiraio di speranza dato dalla figura emergente del revisore legale, libero professionista europeo, che pone le basi nella legalità e nella giustizia, principi che a volte vengono trascurati nel mondo politico e economico della nostra e delle altre nazioni mondiali. Un professionista che è un giudice a tutti gli effetti, con funzione di terzi età, l'unica libera professione valida in tutta Europa, una delle poche attività lavorative che vivono nella correttezza per lo svolgimento di un lavoro pulito nel rispetto delle norme e delle leggi. E su queste basi appena elencate che molti di noi giovani sono interessati ad intraprendere tale realtà, dando una forte spinta al miglioramento della disoccupazione giovanile ed intellettuale. Una realtà che può educare e riqualificare il sistema del lavoro italiano. Le difficoltà per noi studenti nell'intraprendere questo percorso non sono poche ed esse sono maggiormente rimarcate dalla tardività del governo e del legislatore nel dare un concreto inizio al decreto legislativo del 27 gennaio 2010, numero 39, il quale fornirebbe nuove possibilità di lavoro, con un numero importante e significativo che si aggira intorno ai 200-250 mila posti. Io e la delegazione che rappresento siamo qui oggi in questo congresso perché crediamo fermamente nella figura del revisore legale, una professione che vede un futuro attivo, ricco di giovani, pronti ad affrontare con impegno e fatica questa tipo di professione, aspirando nel contempo a difendere il capitale economico e intellettuale del nostro Paese. A questo proposito mi rivolgo a voi, membri dell'Istituto Nazionale Revisori Legali, mi rivolgo i professori, agli onorevoli europarlamentari, per svegliare questa realtà italiana e per completare ciò che il Parlamento europeo già ha fatto in 26 Paesi dell'Unione Europea. E con l'orgoglio di essere uno speranzoso giovane italiano che vi invito a persistere e a far sì che l'importante ruolo del revisore legale venga maggiormente conosciuto e diffuso nella nostra nazione, confidando anche in un nostro impegno quotidiano e costante presso i nostri mondi, le nostre realtà, le università, gli atenei, per diffondere le opportunità contenute in questo importantissimo progetto, ma specialmente per rimanere a passo con i tempi e per mostrare a tutti che anche l'Italia può e deve essere una nazione guida per le varie potenze europee e mondiali. Penso che si possa dire un interetto commovente, intelligente e che ci conforta.